Coltivati per la prima volta nell'Asia occidentale, gli spinaci venivano usati per scopi medicinali, prima di essere consumati come alimento. I benefici di questo alimento, che arriva in cucina assumendo tutte le componenti benefiche del terreno in cui si trova, non si esauriscono nel contare i benefici per il nostro organismo, e scopre ogni giorno un nuovo beneficio. Gli spinaci, che apportano incredibili benefici al nostro organismo se consumati nei tempi e nelle quantità giuste, sono un rimedio a quasi tutti i problemi metabolici. Quali sono i benefici e i danni del consumo di spinaci? Quanto e quando consumare? Esaminiamo insieme, puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale, prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi del consumo regolare di spinaci? L'omocisteina è un aminoacido misurato nel sangue. Quando questa sostanza è alta nel sangue, minaccia i vasi sanguigni e prepara il terreno alle malattie cardiache. La vitamina B9 negli spinaci, protegge il tessuto vascolare rendendo innocuo l'eccesso di omocisteina. Mentre gli antiossidanti in esso contenuti aiutano a ridurre la formazione di vasi sanguigni nei vasi, si assume responsabilità molto importanti per promuovere un cuore sano. Allo stesso tempo, gli spinaci sono un'ottima fonte di fibre, che aiutano a digerire il cibo. Grazie al suo alto contenuto di fibre, fornisce la nutrizione di batteri benefici importanti per il nostro intestino. Inoltre, gli spinaci sono molto ricchi di minerali, che svolgono importanti funzioni, come il bilanciamento della quantità di zucchero nel sangue. Le sostanze contenute negli spinaci riducono il rischio di formazione di glicazione. Offre effetti positivi contro le fluttuazioni di zucchero nel sangue. Quando la polpa viene consumata, anche lo stomaco si gonfia, prolungando il processo di digestione. L'alto contenuto di potassio e fosforo, che contiene è molto importante per la prevenzione del diabete. Grazie ai suoi benefici sia per l'apparato digerente che per la glicemia, rende molto più facile il controllo del peso se consumato come integratore durante i pasti. Spinaci per una struttura cerebrale più sana. Le vitamine B6 e C, che svolgono un ruolo vitale nella nostra salute cognitiva, si trovano in questo nutriente in quantità molto ricche. Il prezzemolo, che ha importanti effetti sulle attività del sistema nervoso, aumenta l'efficienza dei segnali elettrici al cervello con questi composti. Inoltre, è molto utile per il tessuto osseo con il suo calcio. Con potassio e magnesio, aiuta a utilizzare il calcio nel sistema intestinale in modo molto più efficiente. Spinaci contro le malattie. Il consumo regolare di spinaci è uno dei modi più semplici per ottenere elevate quantità di antiossidanti nel nostro corpo. Questi composti alleviano la sensazione di tosse in gola, con i loro effetti antinfiammatori. Allevia le funzioni polmonari, grazie al suo contenuto di vitamina C e fibre. Aiuta a prevenire la disidratazione in caso di febbre alta. Tuttavia, gli spinaci migliorano la qualità della pelle. Queste capacità derivano dagli effetti positivi soprattutto sul fegato. Un fegato sano purifica il corpo dalle tossine. Con i benefici che fornisce al tessuto cutaneo, gli spinaci eliminano la secchezza cutanea e idratano la pelle. Spinaci per una consistenza degli occhi più sana. Protegge il tessuto oculare, riducendo il rischio di degenerazione retinica, grazie alle vitamine in esso contenute. Inoltre, questi composti favoriscono la crescita di capelli sani e ne aumentano l'elasticità, mantenendo l'equilibrio idrico. D'altra parte, crea uno scudo protettivo contro le malattie dei denti e delle gengive. A lungo termine, previene l'accumulo di batteri intorno ai denti. Quindi, c'è del male nel consumare gli spinaci? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Innanzitutto gli spinaci sono tra le sostanze utilizzate dal mondo della salute. In quanto tale, ha il potenziale per interagire con determinati farmaci. Consulta il tuo medico prima di aggiungere gli spinaci al tuo programma nutrizionale, soprattutto se ci sono farmaci che devi usare continuamente. Il prezzemolo, invece, può causare problemi di digestione se consumato troppo, grazie alla fibra che contiene. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere gli spinaci al tuo programma nutrizionale e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriviti al nostro canale se non l'hai ancora fatto. Stammi bene!